Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignon in vostra compagnia. In A11 per manifestazione fieristica, in uscita Lucca Est, provenendo da Firenze, Coda per traffico intenso. Nebbia a banchi, segnalata in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno, e in A15 tra Inoda 12 e Pontremoli, raccomandata la massima prudenza. Sul raccordo Sina-Firenze a causa dei lavori sono in vigore restringimenti e scambi di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la A1 Firenze in Pluneta. Si ricorda che per lavori in piazza San Marco a Firenze il collegamento tra Via Cavour e Via della Colonna è interrotto, corsia preferenziale revocata in Via degli Arazzieri in direzione Fortezza. Estesa fino al 16 novembre la scadenza per attivare il bonus TPL Firenze valido per bus, tranvia e treno cittadino. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!